musica 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 ma è giusto manca quello lì se fatti te senti che manca pressione allora parte con pressur e fa che si riesco a resare nooo no si sta accendendo questo è un abitatore wow io ero con l'estratore con i cuciniti all'albero senti che buona ahahah è una fabbrica è una fabbrica io ero con i cuciniti all'albero con l'estratore vedo quanti i mini marco senti che ha battuto bene senti a me pare che sia su questa roba avevo fatto la posta e vedi che stava la busta e anche così c'è un abitatore che ha tagliato l'audio perchè mi ha detto vare che devo troppo a poco parte con pressurale ecco e ora vediamo d'acqua ehm 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 ma l'ha ehm 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 eh ehm mi viene a tirare un po' per il sistema o no? Ehi, chi? I campi che... Non erano... Non erano cresciuti Non erano cresciuti Perché vedo un'altra in posizione tra niente? In teoria ti senti che sei a darmi No, mi devo salutare Sì, mi devo risposta E' un momento che sei morto E' un momento che sei morto E' quasi te lo suscita per il Gesù Cristo E' un'altra più copra morta No Marco E' un momento che sei morto E' un momento che sei morto Vedo cosa sconce con il Valtra Aspetta, non lo so, non lo so Sono esperto in queste cose qua Mara Aspetta qua che è una zavora comoda E' un cane da dietro Si, la sconta da un tocco E' un po' finito E' un po' finito Ma non lo so E' un po' finito E' un po' finito E' un po' finito E' un po' finito ora sono segnato come gomme standard ma è che passi io fuori dal garage ma il minimo contestamento c'è mette voi il forenese adesso è assurdo no acciaio tu che speno va vara dai fa cambio come via metti il suono la donna santissimo aspetta 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 mamma la vai 3 2 1 attacca ho fatto vabbè vabbè bel trattore qua che troia dobbiamo passare i cammi a marco si si andiamo andiamo eh prova a vedere se si pesta veramente teoria si perchè sono un po' meno normale ancora? ancora? si pesta vedi che avevo ragione però vabbè che violenti che siete vabbè vabbè che c'è la trasmissione che ci smuove si è vero vabbè 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 che stupramento di un povero mt vabbè 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 ma poi è un po' volante non so questo è giusto con il nord ebbè no no, fai e io gli evitare il trattore qua e li impi grano? si e io ero dentro su a fame di siano perché prima io non vi ho già questa roba ma se il bel figlio è morto ha detto si un salato come al solito ma no, veste, su, su e io tutti lasciano i miei commenti ma come fai a vedere tutti i soldi qua dopo zero ah ok, quindi posso dirlo nei commenti, va bene no ora che asfaltate questo video sapete ecco il perché marco è nato ricco in poche parole l'ho portata a battere è perché rumoda cammina male no, ho usato, ho utilizzato la vaselina ma ho fatto in agro d'orgo città? ok è stato comina direttore agricolo trasferisco idiole amaro can vai marco oggi tutto il capello oggi non è anche una buona idiolele il microfono anche prima l'ho sentito cammina e se è marco o tre qua quando c'è no, parea il ricco mi parea sganza, sganza che prima deve essere sto eh sì perché c'è un altro coloro ok, non gli ero tutto quello qua e cazzo qua un po' di polvo e Lenny qua l'era l'era un jet no, l'era colore grigio agico invece questo qua esatto, c'è un jet ah, c'era bronzato molto più primo dei cerchi nero opachi e... eeeh 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 ripeto con questa cosa che ho lavorato tanto 3 2 eeeh non dire balle 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 9 9 10 10 12 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 15 16 15 16 16 16 16 16 16 17 20 19 20 21 22 che cazzo ne so, io leggo quello che ci credo su... si ma lei non legge l'ha ingannato ecco, ah beh, tanto ma questa base si sa poi in cui hai nooo ah si ha? no 21 ottiene 31 questo risponde 27 senza risponde avevo fatto un casino presso e capienza si ma perchè ti devo dare la configurazione ti devo dare la capienza ha già 27.000 litri con... senza risponde ah beh, eeeh non ho gli occhiati occia baracca vedo, vedo, vedo no, non mi fa niente tanto ha tre cingri, non te che ho su? dentro in galaie dai ai 5 da mattina e poi ti mando per strada e poi sfiamma te te gatti e porto un nero dopo uff e barco quando ti fretta ah non pensi si sentivano un cui sotto al... eh ragazzi con copia guardi senti... senti ragazzi con copia senti ragazzi con copia scuso grazie dell'attenzione e arrivederci bella raga non è non è non è quello che si ha il